Ciao a tutti, bentrovati. Ho appena giocato D4, guardate questa mossa D4 e la risposta del mio avversario, il famoso e famigerato gambetto Englund. Dovete sapere che questa spinta in E5 è considerata essere una spinta molto dubbia. Cosa significa? Spinta dubbia, mossa dubbia vuol dire che è una mossa che, se affrontata in modo corretto, dà vantaggio. Io catturo il pedone in più, lui vuole riprendere il pedone e io lo difendo e su questa mossa chiaramente il bianco si ostina per mantenere il pedone di vantaggio. La mossa più frequente che ho trattato in un precedente video è Donne7 che in realtà è una mossa che se è giocata bene da bianco poi alla fine si trasforma in mossa perdente. Lui gioca a cavallo E7, l'idea probabilmente pratica, il cavallo salta in G6, da lì minaccia E5, voglio recuperare il pedone, ma tra virgolette chi se ne frega. Nel senso che in questa posizione il bianco per ottenere vantaggio deve semplicemente sviluppare i pezzi, può anche restituire il pedone. Come vedete questa non è affatto una mossa che spaventa, che possa preoccupare e quindi semplicemente bisogna sviluppare i propri pezzi. Alfiere C4 è una mossa che completa in parte lo sviluppo, lui catturerà al centro, a quel punto io cambio tutto, il mio alfiere si sposta in B3 e vi assicuro che quella è una posizione molto comoda. Gioco Donna D5. Donna D5 cercando di creare quel pizzico di gioco dinamico e gioco complesso che vediamo un po' come deciderà di affrontare. La donna la collego con l'alfiere in C4 minacciando il punto F7 e a questo punto l'arrocco sembra più che spontaneo. Cavallo per E5 e appunto per lui è il momento di far qualcosa di concreto, io riprendo, mi aspetto la ripresa e a questo punto l'alfiere in B3. Chiaramente si trova in una casa ideale, in una casa ottima. Facciamo una fotografia della posizione e analizziamo quanto abbiamo di fronte. In questa posizione il bianco ha il controllo totale del centro, ha sicuramente più spazio e la donna ha superato la metà scacchiera, il re si trova al sicuro mentre il re del nero purtroppo per lui è rimasto ancora lì al centro della scacchiera. In questo momento c'è una piccola combinazione, vediamo se qualcuno la trova, quindi diciamo che muoverò tra 15 secondi e considerando che la posizione è favorevole per il bianco. Un altro errore in precisione del nero sono state queste spinte di pedoni. Come vedete mentre il bianco completava lo sviluppo il nero muoveva i propri pedoni e questo ha portato a uno svantaggio di spazio. L'alfiere F4 dovrebbe essere, anzi sicuramente lo è, la mossa vincente perché attacco un pezzo due volte ma in realtà la mia idea è che dopo il cambio subentra il cavallo che vuole minacciare il doppio. Quindi attacco numero 1 il doppio e attacco numero 2 il pezzo. Ok, l'alfiere D6 ammetto che non l'avevo considerata ma questa posizione comunque sia mi sembra molto promettente e favorevole. Direi che ReH1 dovrebbe andare su ReH1 poi cambio tutto, gioco F4, l'alfiere lascerà il contatto, la difesa su C7 e guadagnerò un pedone. Quindi ReH1 dovrebbe sicuramente funzionare. Vediamo un po' se io catturo adesso, non mi riprende, gioco F4, ciò che non mi piace è questo scacco intermedio. Anche se questo scacco intermedio va bene, in realtà accelera quella ReH1 che è una mossa che avrei voluto comunque sia giocare. Ok, annunciavo prima al F4 come mossa vincente, vi dico che guadagnerò un pedone, o se non guadagno un pedone avrò un vantaggio posizionale così grande che la posizione chiaramente è molto comoda per me. Soltanto 3 minuti di differenza su una partita di 5 sono veramente tanti, ok più che 3 direi 2, con il bianco che è una forte iniziativa sul punto C7. Se il vostro avversario è costretto a giocare ReD8 chiaramente potete essere più che soddisfatti di quanto avete giocato prima. L'altro motivo che mi fa fermare con certezza di stare meglio è che lui non ha assolutamente un piano o dei pezzi coordinati. Quindi cerco di catturare i suoi pedoni. Pedone F7 non è difeso, torre F8 probabilmente sarà costretto a giocare proprio questa mossa e alfiere D5 attacco questa torre. La torre dovrà spostarsi, guardate quanto sono brutte le sue mosse, mentre io mossa dopo mossa riesco a migliorare i miei G7. C4 prendo spazio e qualcuno dirà beh occhio è beccato questa tattica con C6 che toglie le case al tuo alfiere. In realtà non è così perché l'alfiere per C6 avrebbe sfruttato questa inchiudatura. Adesso che il suo Re si sposta alfiere per C6 non c'è più e quindi il cavallo si sposta lasciando casa e diagonale libera questo alfiere. Andiamo in attacco, cavallo per G7 è la mia idea, una mossa che da scacco chiaramente è una mossa parecchio forte. Torre qui, cercando di raddoppiare, quindi ottenere un vantaggio immediato. Anche alfiere per F7 immagino che sia interessante ma in questo tipo di posizioni dove avete più spazio, dove tutto sotto controllo, cosa importante dove il vostro avversario è chiaro che non abbia l'idea chiare e non sa come proseguire dovete semplicemente avere pazienza. Ricominciamo. Quindi alfiere per F7 per adesso la scarto come idea, però potrebbe essere interessante prendere spazio in questo modo. Questo credo che sia un errore perché mi permette cavallo H6, cavallo H6, minaccio F7 due volte. Torre G7 probabilmente F5. Vediamo un po', sì F5 dovrebbe andare, l'idea potrebbe essere F6. Anche cavallo per è sicuramente vincente. Se questa potrei giocare una più creativa, cavallo G8. Cavallo per F7 vi assicuro che alla fine vincerà perché il suo re è parecchio scoperto. Cavallo G8, andiamo verso la creatività. Creatività contro praticità. Ok, non ho tempo. Non ho assolutamente tempo. F6, limitiamolo. B4 premuovo. 24 secondi contro 2 minuti e 40. Ho parlato tanto, ho parlato troppo e questo è il momento in cui le posizioni potrebbero cambiare perché chiaramente il tempo stringe. Deve accelerare, cercare dei piani facili, piani veloci, mosse istintive. Torre per D7 magari aveva anche questo il suo perché. Un piano utile. Ok, intanto questa la gioco. Piano utile, intanto C4 per guadagnare secondi importanti e soprattutto per centralizzare il re. Siamo in finale, tutti i pezzi devono giocare, il re diventa un pezzo come gli altri, quindi portiamolo in gioco, diamogli un ruolo per qui. C5 sarà la sua scelta e a questo punto direi che è duro. Non sono sicurissimo, però questa torre è qui e lo limita un po'. Per F4 sarà la prossima mossa. Se re per E5 il pedone F è protagonista di piacevoli contro giochi. Ok, questa devo farla per salvare il salvabile. Ok, scacco. Niente, purtroppo è andato. Ho parato tanto per questo gambetto Engludo che sicuramente è disastroso. Vediamo un po' qual è il momento critico. Qui deve essere probabilmente più 2 per me. Ok, più 2 esattamente. Vediamo qual è il colpo tattico che mi è sfuggito. Alfiere per B7 in effetti era la scelta facile, cambiare tutto e raddoppiare. La partita è proseguita in questo modo. Vediamo un po' se F5 era la scelta giusta e su questa pedone per G6. Pedone per G6. Catturo, riprendo. Ah, di alfiere. Guardate che interessante la cattura di alfiere. Va bene, avete visto una partita interessante. Ciao a tutti e alla prossima.